Promuovere l'acquisto dei prodotti locali anche tramite la vendita online, sostenendo le piccole e medie imprese del territorio. È questo l'obiettivo principale della campagna di confartigianato imprese Ancona-Pesaro-Urbino, che ricomprende anche il lancio della storica manifestazione Ciocomarche, che giunge alla sua diciannovesima edizione e che quest'anno si rinnova diventando digitale. Confartigianato non si tira mai indietro quando si tratta di promuovere le specificità del nostro territorio e del nostro paese, spiega il presidente Graziano Sabatini, soprattutto in un periodo storico complicato come quello che stiamo vivendo. Abbiamo presentato produttori che ci sono, che sono un'eccellenza veramente per il nostro territorio, piccoli produttori che come abbiamo visto prima nel collegamento che abbiamo fatto, sono anche in questo periodo che si sta vendendo veramente poco, sono comunque tutti in abito da lavoro, a cercare di fare ricerca, a cercare di fare innovazione, a cercare di proporre qualcosa di nuovo. E questo è quello che fanno continuamente le piccole imprese. E noi dobbiamo, per quanto riguarda la nostra associazione, naturalmente promuovere questa grande capacità che hanno le piccole imprese e dobbiamo fare in modo naturalmente di supportarle in questo. Ecco l'iniziativa Ciocco Marche, non poteva mancare quest'anno. A sostegno delle imprese è stato lanciato anche l'hashtag Acquistiamo Locale, accompagnato da un'immagine coordinata, un logo per l'iniziativa, in cui le marche campeggiano colorate di verde in simbolo di speranza, al centro di un cuore, in cui sono presenti le icone dei mestieri che Confartigianato rappresenta. Presenteremo un brand Acquistiamo Locale, una campagna di comunicazione nel favorire l'acquisto verso le micro e piccole imprese, un patto sociale con i cittadini per salvaguardare il nostro territorio. Una nuova veste di Ciocco Marche, che partirà il 20 novembre e durerà fino al 18 di dicembre, con i sette cioccolatieri marchigiani che saranno i protagonisti indiscussi di questa edizione. Ciascuno di loro presenterà prodotti rigorosamente artigianali e legati al nostro territorio, acquistabili sul sito www.laviamaestra.com, per permettere agli spettatori di gustare i prodotti direttamente a casa. Racconteremo attraverso i nostri canali, sia offline sia online, quindi canali Instagram, Facebook e i nostri siti, le storie di questi cioccolatieri, cercando di far vivere digitalmente un'esperienza di gusto a tutti gli utenti che navigheranno appunto sui nostri canali di comunicazione.